Intervenuto a Teramo al Forum Internazionale del Gran Sasso, il Premier Giuseppe Conte ha riconosciuto che per la ricostruzione dei territori del centro Italia colpiti dai terremoti il Governo può fare di più e lo farà. A Conte il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha chiesto che il Comune di Teramo possa essere capofila di un CIS, contratto istituzionale di sviluppo, ma ha anche consegnato una lettera preparata dallo sportello sociale USB a seguito delle partecipate assemblee popolari di Colletterato Basso e Piazza Martiri dei giorni scorsi. Importante è la sua presenza a Teramo, un incontro proficuo, nell'ambito del quale abbiamo rappresentato le criticità di una ricostruzione che continua ad essere ferma, l'insufficiente risposta del decreto sblocca cantieri, la difficoltà da parte del Governo e del Parlamento di comprendere la grave situazione di emergenza che vive il nostro territorio, che continua ad essere sottovalutata. Abbiamo acquisito l'impegno del Presidente a risolvere queste criticità, ad ascoltare i sindaci, i territori, le popolazioni. Speriamo che questo impegno ribadito proprio sabato seguano i fatti. Al momento si parlava del lavoro, della discussione parlamentare sul decreto crescita, non mi sembra che siano già state inserite le norme che noi abbiamo chiesto e che torneremo a chiedere al Governo e ai parlamentari. Abbiamo parlato anche di rivitalizzazione del territorio, suggerendo al Presidente, proponendo al Presidente l'attivazione anche a Teramo e attraverso Teramo, su tutto il nostro territorio, di un contratto istituzionale di sviluppo, così come è stato fatto in tante altre realtà del Centro-Sud. Mettere a sistema le risorse, raccogliere tutte le istituzioni per dare una risposta organica, che non sia legata solo alla ricostruzione materiale, ma anche e soprattutto uno sviluppo culturale, economico e sociale. Il Presidente crede molto a questo strumento, insomma, quindi sotto questo aspetto c'è stata una buona intesa e speriamo che possa essere messa in campo il prima possibile. Resta però la priorità, la ricostruzione. I nostri cittadini, insomma, che hanno predisposto una lettera che ho consegnato al Presidente, hanno manifestato nuovamente il loro grido d'allarme. Speriamo che questo grido questa volta non resti inascoltato.